E' emerso anche che Comune e Regione sapevano dell'indagine in corso e la giustificazione della Serracchiani è stata che la norma è stata fatta prima che arriva a Sio. Intanto se ce ne ci sta cambi la norma, però capite che è un'offesa e una vergogna verso i cittadini onesti che la Regione finanzi un presunto terrorista che finanzi indirettamente l'Isis, perché siamo arrivati a questo. Purtroppo i dati ci dicono questo. Allora non si può trovare sempre la giustificazione e colpa degli altri, la Serracchiani si prende alle sue responsabilità e dopo questo scandalo io avrei preferito che dicesse ho sbagliato, correggiamo, invece di dare la colpa agli altri. Una governatrice che non è in grado di prendersi le sue responsabilità deve andare a casa e dare le dimissioni, perché è inaccettabile, noi chiediamo rispetto per i cittadini.